allora buongiorno a tutti oggi volevo farvi questo breve video per cercare ancora una volta un'impresa impossibile ovvero quella di far ragionare chi proprio in questo momento non è in grado di pensare qualcosa di diverso rispetto a quello che gli dicono di pensare perché poi è questo il grande problema di questo periodo no la massa la maggioranza come sempre nella storia più o meno perché è sempre stato così non è in grado di un pensiero critico autonomo sono semplicemente in grado di ripetere a pappagallo quello che sentono ripetere dalla propaganda questo è il quadro ora in questo contesto una delle voci di propaganda che è quella su cui voglio farvi riflettere in questo video è che l'europa ci darà attraverso il famoso recovery fund quei soldini necessari a dare respiro alla nostra economia demolita dalle misure di contenimento del covid quindi notare i termini no sono stato chiaro di più non voglio più dire visto e considerato che se non sapete cosa succede su questi liberi social e allora perché di fronte a un'emergenza comunque un'emergenza anche se causata dalle misure comunque un'emergenza non c'è un'iniezione massiccia di liquidità da parte dello stato siamo in europa è vero allora la domanda è perché non c'è stata un'iniezione massiccia di liquidità da parte della banca centrale europea perché non esiste un singolo capo di stato in grado di chiedere espressamente non astruse riforme non astruse alchimie dirette a far valere prestiti cioè chiedere prestiti poi sui mercati ma semplicemente invochi l'utilizzo della banca centrale per la creazione di moneta per dare un impulso a un'economia morta ora ripeto è difficile per chi comunque ormai ho tenebrato dalla propaganda di regime arrivare a un ragionamento di senso compiuto ma vi rendete conto che questi non stanno creando moneta non stanno iniettando moneta nel sistema e la moneta non cresce nei campi la moneta non si cerca in fondo al mare non viene trovata nelle miniere non ce la prestano i marziani la moneta è una convenzione umana che noi creiamo dal nulla e le banche centrali creano moneta dal nulla ecco possibile che in questo contesto non vi si accende una lampadina sul perché in questo contesto non c'è un singolo capo di stato che non pretende espressamente la creazione di moneta da parte della banca centrale o invoca cosa più gradita certamente a me il ritorno a una sovranità monetaria nazionale per rispondere a un'emergenza e quindi per dare soldi a chi non ce la fa a chi si uccide si suicida c'è stato un ultimo episodio di un barista qualche giorno fa a Roma mi sembra se non il suo bar si è suicidato chiaramente ti obbligano a chiudere non ti danno ristori non tutti hanno la forza di resistere di combattere c'è chi cede la depressione e questi sono i risultati ora voi che comunque continuate a non ragionare ha continuato che continuate a pensare che chi ci governa faccia i nostri interessi lo faccia solo per il nostro bene perché non vi fate la domanda sulla ragione per la quale nessuno invoca un intervento espansivo di politica monetaria quindi di buttare moneta all'interno dell'economia ora io vi posso dare la risposta sul perché perché chiaramente se io inietto moneta nell'economia rendo una nazione non più ricattabile e in questo momento invece c'è l'esigenza di utilizzare la crisi per ricattarci ancora di più e quindi per accettare quel piano di riforme che ci impone attraverso il vincolo esterno Bruxelles in nome per conto dei poteri economici internazionali dell'altra finanza prevalentemente angloamericana per imporci chiaramente quelle scelte politiche di cessione di sovranità poi in sostanza che in condizioni normali non accetteremo quindi la crisi è perfetta come ulteriore ricatto e il ricatto funziona soltanto dove c'è assenza di moneta se noi avessimo le tasche piene dei sussidi che lo stato potrebbe creare dal nulla senza alcun limite beh è evidente che il ricatto non funzionerebbe più perché saremmo tranquilli invece la situazione emergenziale viene creata dalla refazione monetaria è lo stesso schema che abbiamo visto in questi anni con i trattati semplicemente moltiplicato l'ennesima potenza cioè con un'accelerazione enorme accelerazione enorme che è consentita appunto dall'emergenza covid che è quella famosa opportunità che le crisi creano per il grande potere economico per fare passi avanti nella direzione di dominio incontrollato che loro vogliono che a questo punto incide anche sulle libertà personali in maniera diretta non più indiretta attraverso la debolezza economica in maniera diretta attraverso la soppressione di libertà costituzionali inviolabili in nome appunto dell'emergenza sanitaria questo è il quadro e vi ripeto chi non lo capisce chi non lo capisce perché cooptato dalla propaganda dovrebbe iniziare a farsi delle domande cioè la domanda su da dove diavolo vengono i soldi siete in grado di farvela cioè davvero pensate che gli chiediamo ai marziani ripeto non ha alcun senso c'è una nazione che nemmeno di fronte all'emergenza risponde con la creazione monetaria e quindi togliendosi dall'incubo del contabile di chinesiana memoria in cui viviamo è una nazione che non va e non fa gli interessi nazionali quindi è inutile che poi leggevo oggi di indagini da parte della magistratura per chi attacca le cariche dello stato ma è normale attaccare le cariche dello stato in questo momento perché abbiamo cariche dello stato che vanno contro l'interesse nazionale contro la costituzione tradiscono quelle che sono le necessità del popolo e secondano il vincolo esterno che si impone ancora di più con gli accordi che a breve verranno poi ratificati dal parlamento italiano con vere e proprie eccessioni di sovranità nazionale con distruzione del nostro potere d'imperio all'interno del territorio in cambio di lemosina di qualche prestito che non potrà far riprendere l'economia perché chiaramente parliamo di cifre irrilevanti dovresti buttare nel sistema 3 400 miliardi liquidi domani mattina allora l'economia potrebbe riprendersi il paese potrebbe riprendersi ma chiaramente non li puoi chiedere in prestito se vuoi riprenderti sono soldi che devi creare dal nulla credito non prestito gli stati sovrani hanno anche questa caratteristica e noi comunque in europa ci fosse stato qualcuno in buona fede lo ribadisco avremmo richiesto le stesse operazioni alla banca centrale europea che per trattato si non può fare facilitazioni creditizie agli stati ma può dare i soldi ai privati la famosa elicópter monica invocato fin dal marzo scorso sarebbe stata possibile certamente ma comunque sarebbe stato anche possibile di fronte all'emergenza modificare i trattati nell'eliminazione appunto del dei vincoli legati alle politiche monetarie e quindi dando la banca centrale il potere di finanziare direttamente gli stati e senza ovviamente indebitarli questo è il quadro il mestro quadro cioè è chiaro che qui o la gente capisce oppure finirà male malissimo e poi come al solito la maggioranza si sveglierà quando sarà tardi e andrà a seguire poi i salvatori futuri della patria nel momento in cui le condizioni cambieranno la maggioranza arriva sempre dopo la maggioranza ha sempre torto questa è la storia e oggi più che mai hanno torto sia sotto profilo economico sia sotto profilo della valutazione di cos'è l'unione europea sia sotto il profilo chiaramente dell'emergenza sanitaria e questo è il quadro di una situazione desolante in cui o ci svegliamo o non è che finirà male finirà in modo catastrofico questo è l'esito finale delle situazioni di questo tipo che porterà a tensioni che neppure questi grandi gruppi del potere economico nonostante tutto ciò che stanno facendo anche per andare a colpire la libertà personale e aumentare il controllo capillare saranno in grado di controllare perché a un certo punto il banco inevitabilmente salta e questo ce lo insegna la storia non è che ve lo sto dicendo io adesso perché è sempre finita così la tecnologia gli darà un po più forza rispetto al passato ma il programma finale destinato comunque al fallimento questo è non è che vi posso mai dare buone notizie ma non ci sono buone notizie insomma evidente godetevi poi giugno luglio magari agosto di un minimo di di allentamento anche determinate misure un ritorno a un pochino di libertà personale poi chiaramente si andrà avanti con il recrudescenza dell'emergenza sanitaria nel prossimo autunno e parallelamente ovviamente con le ulteriori misure di cessioni di sovranità che sono già in corso e quindi con l'ulteriore distruzione del nostro stato questo è il quadro o vi svegliate o vi svegliate questo è un saluto